Comunicare ai giovani è importante e voi in qualche modo prima di altri lo avete capito. Allora, qual è stata la strada, il percorso che poi in tanti hanno seguito? Ma innanzitutto forse vale la pena ricordare che McDonald's ospita ogni giorno in Italia nei suoi quasi 600 ristoranti 750.000 persone, quindi 750.000 italiani, non solo giovani ma anche sicuramente molti giovani, entrano ogni giorno. Capite che è un'opportunità enorme per far conoscere anche il valore della qualità, il valore dei prodotti italiani, del made in Italy. Questo è un percorso che ha iniziato in maniera molto consistente e continuativa nel tempo, è iniziato ormai dieci anni fa. Il primo prodotto era il parmigiano reggiano DOP, quindi è stato l'inserimento di parmigiano reggiano all'interno di un panino come proprio ingrediente caratterizzante un hamburger. E da lì poi lo spec dell'Alto Adige, l'Asiago, il provolone e fino ad arrivare anche a ricettare alcuni prodotti DOP e IGP all'interno delle salse. L'ultimo prodotto che abbiamo lanciato qualche mese fa è proprio un panino con una salsa barbecue, una salsa barbecue rielaborata con cipolla di tropea e aceto balsamico. Quindi diciamo che il lavoro poi che è stato fatto, che hanno fatto i colleghi che sviluppano le ricette, è quello proprio di riuscire a incrociare il DNA tipico di McDonald's, che è quello di produrre degli hamburger, dei buoni hamburger, con le caratteristiche dei prodotti tipici italiani, dei prodotti DOP e IGP. Cercando soprattutto di non tradirli, anzi di valorizzarli, quindi di non coprire il gusto ma di fare in modo che questo gusto esplodesse in tutte le sue mille sfumature. Esatto perché spesso appunto nel panino la difficoltà è proprio quella di far sì che ogni sapore sia perfettamente riconoscibile. Voi ci siete riusciti? Ma allora bisogna dire che il vero segreto di un panino non è aggiungere ingredienti all'infinito, oggi si vedono ogni tanto degli hamburger che hanno proprio delle altezze quasi piramidali, ma credo proprio che sia il bilanciamento, il bilanciamento dei sapori, il bilanciamento anche dei colori perché è importante poi che anche la componente cromatica perché è un richiamo importante e poi anche il bilanciamento delle texture, delle croccantezze, quindi inserire un prodotto che dà una certa croccantezza piuttosto che un prodotto che ammorbidisce la carne, che l'accompagna. Credo che proprio sia un lavoro sapiente di associazione di diversi elementi. Quello che avete capito di fatto è che i giovani poi sono il veicolo per le famiglie, quindi mamma, papà, parenti, affini, ecco. Però i grandi sono anche attenti al discorso economico, come siete riusciti quindi a mantenere attraente anche il prezzo alzando, elevando la qualità? Ma allora io credo che il segreto di questo mantenimento di prezzi accessibili a tutti insieme a riuscire ad offrire prodotti di altissima qualità sia proprio nei volumi. Io ricordavo prima i 750.000 clienti, ricordiamo così la prima volta che noi abbiamo fatto un panino con la chianina, era il 2013 se non sbaglio, ecco in due settimane abbiamo venduto 2 milioni di panini con carne e chianina. Quindi voi capite che McDonald's ha la capacità di raggiungere un numero così alto di clienti e quindi di fare proprio un lavoro di volumi e di conseguenza anche di riuscire proprio per l'economia di scala a garantire dei prezzi accessibili a tutti. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.